L'Onda, Pirandello Era Giulio Accurzi, come si suol dire in società, un bal giovane. Trentatré anni, facoltoso, elegante, non privo di spirito. Godiva poi, nel concetto degli amici, di una specialità. Si innamorava costantemente delle sue inquiline. Possedeva una casa a due piani. Affittava il primo, a cui era annesso un terrazzo, che dava su un grazioso giardinetto riservato per un'angusta scala interna al secondo piano. Abitava in questo, con la madre paralitica, relegata da parecchi anni in poltrona. Di quando in quando, gli amici lo perdevano di vista. E allora si poteva ritenere con certezza che l'ingegnare Giulio Accurzi si era già messo a farla graziato con la filia hospitalis del piano inferiore. Erano per lui questi amoreggiamenti come uno dei comodi del suo bene stabile. Inquilino padre notava con compiacenza la squisita educazione e le premure del padron di casa. La figlia non sapeva mai bene se quelle premure fossero veramente effetto della squisita educazione, come argomentava il padre, o dell'amore, come a lei era parso qualche volta di dover capire. Inciò l'ingegnere Accurzi dimostrava davvero del talento. Nei primi mesi della locazione egli civettava dal balcone, sul terrazzo, ed era il primo stadio, detto dell'amore in giù. Poi passava al secondo stadio, dell'amore in su, cioè dal giardino al terrazzo, e questo soleva accadere sull'entrata della primavera. Allora egli mandava in regalo col vecchio giardiniere dei frequenti mazzi di fiori al primo piano. Fiore, gerani, lillà. Talvolta si spingeva fino a lanciare lui stesso dal giardino, con molto garbo, qualche magnifica alba plena, alle due rose e mani tese in alto ed aspettanti. E la luna soleva assistere dall'alto a queste scene e Giulia Accurzi si chinava, per chiasso, a carezzare l'ombra della fanciulla proiettata dal terrazzo sulla rena dorata del giardino. La fanciulla, dalla balustrata di marmo, rideva sommessamente e dimenava la testa, o si tirava indietro ad un colpo per sfuggire con l'ombra all'innocua carezza. Ma tutto doveva finir lì, o altrimenti la scappatoia era pronta. Egli, dispiacente, annunciava al padre che, col nuovo anno, era costretto a rincarare la pigione e i suoi contratti con gli inquilini avevano tutti la durata di un anno. Prima che sua madre s'ammalasse così gravemente, Giulia Accurzi non aveva mai pensato sul serio a prendere moglie. «Eppure tu saresti l'ideale dei mariti», gli dicevano gli amici. «Tu cerchi la comodità nell'amore. Riduci i due piani a un piano solo». Quando la signora Sarni con la figlia venne ad abitare nel primo piano, Agatha era da tre anni promessa sposa a Mario Corvaia, il quale allora si trovava in Germania a perfezionare i suoi studi di filologia. Quel fidanzamento aveva avuto tristi vicende e pareva che il giorno delle nozze si perdesse ancora tra le nebbie dell'incertezza. Mario Corvaia, è vero, sarebbe ritornato tra breve dalla Germania, ma chissà quanto tempo ancora avrebbe dovuto aspettare un concorso per qualche cattedra di filologia all'università. Giulia Accurzi ignorava tutto ciò, perciò non sapeva rendersi ragione dell'aria dolente della signorina Sarni. La vedeva di raro sul terrazzo, al vespero, pallida, con sulle spalle uno scialletto di color rosio mitissimo e la veste nera. Al balcone studiava ogni meno atto di lei. Ella si fermava di preferenza a guardare due canarini in una gabbia sospesa a un palo del terrazzo. Quelle due bestioline cantavano allegramente tutto il giorno, o si fermava ad osservare i vasi di fiori allineati sulla balaustrata di marmo, dei quali la madre, donna Anna Maria Sarni, aveva straordinaria cura. La fanciulla raccoglieva due, tre violette, poi si ritirava, come tenuta da altri pensieri, senza gettare mai uno sguardo al giardino sottostante. Ne levar gli occhi si è pure disfuggita al balcone, dove l'ingegnere Accursi, tosserellando di tanto in tanto, o smuovendo a posta la seggiola, si struggeva di smania e di stizza per la non curanza di lei. Quelle violette, chiuse in una lettera, schiacciate da tanti bolli postali, dovevano correre molta terra, andare lontano, lontano, fino ad Heidelberg sul treno, lassù. Che ne sapeva Giulio Accursi? Egli era incantato dalla pace suavissima che regnava in quella casa al primo piano, piena di fiori freschi e di luce, una pace e un silenzio quasi conventuali. Nonna Amalia, alta e magnifica, dalla faccia placida e ancora bella, nonostante i sessant'anni, attendeva con passo pesante, senza mai scomporsi alle faccende di casa, poi sul vespro ai fiori, come la mattina alle pratiche religiose, perché ella era molto divota. La figlia conduceva altra vita, si arrivava tardi da letto, suonava un po' il pianoforte, più per distrazione che per diletto, poi dopo colazione leggeva o ricamava. La sera usciva un po' con la madre o rimaneva in casa, a leggere o a suonare. Non chiesa né faccende domestiche, mai. Tuttavia, tra madre e figlia, un perfetto accordo, una tacita intesa, sempre. Ogni tanto, il silenzio della casa era turbata dalla venuta dell'altra figlia della signora Amalia, maritata con Cesare Corvaia, fratello di Mario. La sposa portava sempre con sé i suoi due bimbi, a cui la zietta faceva un mondo di feste. Allora soltanto, senza saper perché, l'ingegnera accursi, tappato tutto il giorno in casa, sentiva aprirsi il cuore alla gioia. Vedeva dal balcone i bambini e la signorina Sarni rompere sul terrazzo. Sentiva i sorrisi, il suono carezzevole della voce di lei. La vedeva chinarsi innanzi ai nipotini, che le saltavano al collo pieni di desiderio e di moine. Le sorrideva guardando, lietissimo, beato. Il babbo, dov'è Rorò? Lontano, lontano, rispondeva Rorò, stringendo gli occhi e stracinando le due parole col mucino in fuori. Cesare Corvaia era primo macchinista sui vapori della compagnia di navigazione generale italiana e faceva i viaggi d'America. Che ti porta il babbo, Mimì, quando ritorna? Tante cose, rispondeva placidamente Mimì. Nel frattempo, dentro, la madre e la figlia maggiore parlavano di Agata, della mutata indole di lei dopo la promessa di matrimonio e specialmente dopo la mortale malattia superata a stento mercè le cure dei parenti di Mario Corvaia. Ostinata, sospirava la madre, non vuol sentir ragione, non vuol capire, eppure si accorta che egli non l'ama più. Certe notti la sento piangere sommessamente. Mi si rompe il cuore, credimi, ma non so dirle nulla. Ho sempre paura, non le ritorni quel brutto male. Che pazzia, che disgrazia, esclamava dal canto suo la sorella, contraria fin dal principio a quel progetto di nozze. E sapeva di tutto ciò Giulio Accursi, intento allora compiacersi dal balcone delle carezze di Agata ai bimbi e delle moine di questi alla zietta. Sul finire dell'estate Agata s'ammalò gravemente. Già, e la s'anneghittiva di far qualunque cosa. La pena chiusa, da chiusa malinconia, a poco a poco si erano disciolte nel tedio. Rimaneva più del solito a letto, sveglia, fondamente vuota. Aveva perduto affatto l'appetito e non ascoltava più negli incitamenti, nei conforti, né delle agnanze della madre o della sorella. Giulio Accursi, allarmato dalle gravi notizie recategli un giorno dal suo vecchio giardiniere, si spinse fino a interrogar per le scale del medico. La risposta di questo lo turbò doppiamente. Egli apprese soltanto allora che la signorina Sarni era promessa sposa e che s'attendeva fra giorni il fidanzato, vista la cattiva piega che pigliava la malattia. Ah, è fidanzata! Da quel giorno egli non ebbe più pace. Voleva ad ogni costo convincerci che era sciocco addirittura a interessarsi tanto della salute di una sua inquilina. costringeva se stesso a uscire di casa ma metteva due ore a vestirsi dovendo ogni tanto affacciarsi al balcone a spiare se qualcuno si facesse al terrazzo sottoposto. Perché? Non lo sapeva lui stesso. Certo, non per domandare notizie di lei non gli sarebbe parso bene affatto. Forse per scoprire dall'atteggiamento di qualche volto lo stato della malattia e ogni volta per imporre un termine a quell'aspettativa che gli pur riconosceva puerile ricorreva ad un'altra puerilità si metteva a contare fino a cento e nel frattempo nessuno s'affaccia me ne voce e cominciava lentamente uno due tre poi nel contare s'astraeva e soltanto le labbra continuavano a mormorare i numeri talvolta col cappello in capo già pronto per uscire non ceva a contare fino a tre cento alla fine si stancava e infilava la porta doveva far violenza a se stesso per non fermarsi a origliare sul pianerottolo del primo piano per via schivava gli amici non riusciva a distrarsi gironzolava un po' senza direzione annoiatissimo e alla fine come spinto da un subitaneo pensiero ritornava frettolosamente sui propri passi forse a quest'ora sarà arrivato e gli aspettava con ansia il fidanzato di Agata distruggeva dalla smania di vederlo di conoscerlo senza sapere chiaramente il perché di quella sua curiosità la madre per quanto ormai non si interessasse più di nulla da stanca di tutto fin anche ad aspettare e di chiamare la morte era accorta del cambiamento del figlio e un giorno gli disse Giulio non far pazzie che pazzie mamma rispose l'ingegnere accursi a cui ormai recava più irritazione che pietà il modo di parlare della madre il tono della voce e il movimento della testa eppure una pazia forse l'aveva commessa sì lo riconosceva egli stesso e n'era turbato aveva fermato per la scala anche la sorella di Agata Erminia e dal modo come le aveva parlato temeva non avesse e l'ha potuto sospettare che gli fosse così insensato da carezzar delle idee sulla sorella promessa ad un altro chissà chi avrà pensato di me sciocco egli in fondo non voleva convenire con se stesso d'essere innamorato della signorina Sarni fra me e lei non c'è stato mai nulla e allora si sforzava di pensare ad Agata come a una persona qualsiasi per la quale si sentisse soltanto pietà sapendola in condizioni gravi di salute povera signorina si diceva così buona e quell'imbecille che non torna se tarda ancora non la rivedrà il via vai per la scala divenne via più frequente Giulio al pianerottolo superiore curvo sulla ringhiera spiava chi saliva e chi scendeva altri medici erano accorsi al letto della malata due suori di carità poi un vecchio alto dalla lunga barba bianca don giacomo corvaia veduto espressamente dalla campagna Giulio apprese che l'acuto della malattia era superato ma che tuttavia la malata vinta dall'estrema debolezza era in preda a furori isterici che la rendevano quasi pazza si è tagliati tartassati i capelli non si riconosce più gli aveva detto la serva chiama sempre il fidanzato pare che egli non voglia più tornare se vedesse che spettacolo giù non vuoi più tornare come la lascerà morire così pensava Giulio truggendosi dentro la porta del primo piano s'apriva di tanto in tanto rumorosamente e qualcuno ne usciva lanciandosi a precipizio per la scala Giulio si destava di balzo dalle sue fantasticaggini e impallidiva che sarà avvenuto muore ecco altra gente sul pianerottolo giù donna Amalia erminia dai volti disfatti chi si attende si è fermata una vettura dinanzi al portone ecco è lui Mario Corvaia e il fidanzato e accanto quel vecchio alto della lunga barba bianca il padre finalmente è tornato ebbene come sta chiede Mario con ansia la madre di lei pallido con le ciglia grottate poi tutti rientrano e la porta si richiude dove mai Giulio aveva udito quella voce sì e gli conosceva di vista Mario Corvaia era dunque colui il fidanzato di Agatha e che avveniva laggiù in quel momento nella camera della malata Giulio si sforzò a immaginare quella scena d'arrivo un'ora dopo all'incirca egli vide uscire Mario Corvaia col padre lo seguì con gli occhi dal balcone lungo la via piena di sole dove si recava perché gestiva così vivacemente parlando col padre e aveva lasciata così presto la malata in che condizioni era ella il far della sera Giulio vide Don Giacomo Corvaia ritornare in casa Sarni senza il figlio seppe dopo che Mario era partito per Roma lo stesso giorno dell'arrivo il suo ritorno dunque era stato come un'apparizione il domani Agatha con la madre con Don Giacomo Corvaia partì per la campagna Giulia Curzi indovinò che il progetto di matrimonio tra Mario Corvaia e Agatha Sarni era andato a monte che era avvenuto ella sarà ammalata per lui ed egli l'aveva abbandonata perché dunque che pretendeva di più quello sciocco come non amare una creatura che a lui Giulia Curzi pareva così degna d'amore ed ella forse lo rimpiangeva provò così pensando un'indefinibile gelosia un sordo rammarico quasi rancore non vi poteva far nulla lui quasi quasi avrebbe voluto intrometterci sì tanta era la stizza che provava per l'agire di quello sciocco lì intromettersi e in qual modo se la son portata via nella campagna di lui sciocchi e perché come si potrà distrarre lassù pensava intanto tra le smanie sarebbe molto meglio che vi morisse aveva però avuto la fortuna dopo circa un mese di trovarsi a scendere per la scala quando la vettura di ritorno dalla campagna dei Corvaia si fermò dinanzi al portone della sua casa Giulia Cursi non poté trattenere un moto e un'esclamazione di sorpresa alla vista di Agata che già scendeva dalla vettura sorretta dalla madre turbato con le mani tremanti la corsa a prestare aiuto alle due donne offrì il braccio alla convalescente e la sorresse lungo la penosa salita ripetendo ogni scalino piano così si appoggi signorina piano dinanzi alla porta e la lo ringraziò timidamente con gli occhi bassi inchinando la testa egli arrossì si confuse e appena la porta fu l'inchiusa morborò come sa ridotta e subito dopo quanto lo amava non pensò più che stava per uscire e continuò a salir lentamente la scala a capuchino percotendosi le gambe coi guanti che teneva in mano come sa ridotta ripetè a fior di labbra fermandosi indeciso dinanzi alla porta di casa trasse macchinalmente di tasca la chiave ed entrò allora sentì chiamarsi dalla madre e accorse subito molto sorpreso di ritrovarsi in casa sua che ti sei scordato gli domandò la madre con voce nasale stanca piegando da un lato la testa avvolta sempre in un fazzoletto nero di lana no nulla mi son seccato sai sono ritornate le nostre inquiline del primo piano ho capito sospirò stanca la madre ripiegando la testa dall'altro lato e chiuse gli occhi quell'esclamazione e quel movimento irritarono Giulio la signorina è stata molto male è ancora ammalata si affrettò gli a dire con tono risentito è giovane non temere guarirà rispose con la stessa voce l'inferma senza aprire gli occhi Giulio rientrò nella sua camera e sedesse una poltrona senza pensare di togliersi il cappello o di posare guanti e bastone quanto lo amava morborò di nuovo a se stesso scotendo a lungo lentamente la testa con gli occhi appuntati e quell'imbecille si levò da sedere andò in su e in giù per la stanza a capochino l'aveva riveduta e aveva offerto il braccio aveva sentito il dolce peso di quel corpo affranto dalla passione e avrebbe voluto portarla su in braccio per risparmiarle la pena di quella salita così pallida e stanca gli era sembrata più bella ed ella gli aveva detto grazie passarono per Giulio accursi due mesi di continua esmanie Agatha non si lasciava più vedere al terrazzo non usciva più di casa alle sue costanti domande alle persone di servizio come sta la signorina otteneva un meglio per tutta risposta e poi in seguito un adesso sta bene e null'altro non voleva parere indiscreto intanto non lavorava più veramente aveva sempre lavorato poco ma prima almeno gli piaceva di studiare o di leggere si era fatta così una varia e larga coltura adesso non gli urisiva più di arrivare in fondo a una pagina fosse pur di un romanzo invece si prendeva molta più cura della persona si affliggeva dinanzi allo specchio coi suoi capelli biondi che si diradavano man mano specialmente sul lato sinistro slargandogli un po' troppo la fronte diventava minuzioso per tutto ciò che si riferiva all'acconciatura voleva essere inappuntabile ma poi dopo tanto studio e tanta cura non usciva di casa sedeva o si appoggiava alla ringhiera di ferro del balcone e aspettava vedeva sul vespro donna male a sarni uscir sul terrazzo ad anacquare i fiori e allora egli seguiva attentamente la mela dell'annaffiatoio che spendeva acqua in minuta pioggia su ogni vaso e su ogni vaso egli si indugiava quanto l'annaffiatoio così faceva il giro della balaustrata certi giorni poi si avvidiva di produrre inutilmente quel genere di vita avrebbe volentieri intrapreso un viaggio ma sì a chi affidar la madre un giorno all'improvviso vide il romper nel terrazzo rumorosamente le due bambine di Arminia Corvaia come un tempo inseguite dalla zietta al rumore prima che le comparisse sul terrazzo il cuore dell'ingegnere a cursi si mise a battere violentemente finalmente la vide gli parve un'altra ella rideva e lei e lei e lei ripetegli a se stesso fremebondo ritraendosi dal balcone vi ritornò subito ma ella era già andata via dal terrazzo con le bambine non pote più rimanere solo in camera sentiva il bisogno di comunicare a qualcuno la sua gioia si recò dalla madre senza saper precisamente ciò che le avrebbe detto la trovò nella solita positura con la testa piegata da un lato e gli occhi chiusi pareva morta i scuri delle due finestre erano un po' accostati e la camera rimaneva in una triste penombra mamma dormi? domandò gli piano chinandosi sulla poltrona e prendendo da un bracciuolo la mano cerea gelida della madre no figlio sospirò la giacente senza aprir gli occhi al suono di quella voce Giulio cangiò tosto d'umore gli parve di non aver mai compreso come in quell'istante la sciagura toccata alla madre la rivide in un baleno ancora vispa in piedi sempre vestita di nero dopo la morte del marito attendere alle faccende di casa ripassò come uno sprazzo dinanzi agli occhi la visione confusa di sua madre tanto diversa che in tutti gli altri ricordi vestita di gala innanzi a un grande specchio a muro una remota sera un uomo le chiudeva la nuca e il fermaglio di una ricca collana era il padre di Giulio Accursi allora bambino di pochi anni e questa era l'unica indecisa memoria che egli serbava del padre rivide immediatamente dopo la madre nell'atto di piegarsi sulla tavola mentre tutti e due mangiavano colpita improvvisamente dalla paralisi la guardò intenerito erano ormai sei anni che la se ne stava così dimenticata dalla morte abbandonata dalla vita povera mamma sospirò recandosi alle labbra la mano di lei fredda insensibile e il suono della sua voce gli chiamò lacrime agli occhi che hai da dirmi domandò la malata senza muovere il capo come se s'aspettasse dal figlio qualche confessione mamma zitto zitto lo so sposala figlio mio sei una buona ragazza sposala mi farai piacere e volse la testa dall'altra parte sospirando che dici mamma sposala ti dico è tempo che tu lo faccia mi farai piacere ma sai tu chi è mamma sì so tutto io l'amo fece Giulio e si stupì immediatamente di aver profferito quella parola innanzi a se stesso siate felici concluse la madre egli rimase perplesso sua madre dunque supponeva che anche Agatha lo amasse e invece si sentì nuovamente punzere da quel sentimento di indeciso rancore l'inferma aggiunse me la farai conoscere certamente risponde Giulio impacciato salutò la madre e uscì dalla camera sospirando amaramente donde gli era sopravvenuta adesso tutta quella tristezza non era stata sempre così sua madre da che era inferma sì sì ma adesso egli non sapeva definirsi bene la causa di quella tristezza ma nessuna cosa al mondo avrebbe potuto consolarlo se egli finalmente non usciva da quello stato di indecisione appena posto piede nella propria casa Agatha sentì come inutile e grave sarebbe stata da lì innanzi la sua vita la madre sarà subito data a badare alla casa lasciata per tanti giorni in abbandono Agatha fe il giro delle stanze e pareva che nessuna trovasse posto da sedere per il momento ed occupare in appresso nelle lunghe e tediosi giornate che l'avvenire le preparava cavò in piedi una nota dal pianoforte come per riudir la voce dello strumento e se ne allontanò subito quasi offesa oh se avesse invece potuto seguire per le stanze la madre tutta intenta a rassettare a spolverare la mobilia e l'avrebbe voluta dare a intendere che non pensava più a Mario Corvaia e soprattutto che non era per nulla afflitta dello scioglimento del suo matrimonio ma come darsi nel tedio che la schiacciava la pena e la fatica di quella simulazione il ricordo peraltro era troppo vivo e insistente ed ella non solo aveva molto da ricordare ma anche molto da pentirsi di quei quattro anni di inutile attesa e ancora non sapeva bene come egli fosse sfuggito durante la malattia conservava ancora in un cofanetto tutte le lettere di lui e ora chiusa nella sua cameretta le rileggeva ad una era seduta per terra con la candela accesa alla cui fiamma consegnava man mano le lettere dopo averle rilette erano disposte tutte per ordine di data e hanno date per anno in quattro fasci più voluminoso il primo esiguo l'ultimo e la rimaneva dopo la lettura con gli occhi appuntati sulla fiamma tremolante e ingranditi l'anima rifaceva il giorno della data mentre la mano tremante appressava il foglio alla candela poi sospirava e attendeva che la carta si riducesse per intero in cenere Giulia Cursi intanto dopo una notte di riflessione agitato da dubbi e da sconforti aveva presa la risoluzione di recarsi dalla sorella di lei con la quale già una volta aveva parlato e forse si era tradito nessun dubbio pensava andando che i parenti accetteranno con riconoscenza la mia domanda ma lei Agatha non si è mai curata di me non pensa neppure che io sia al mondo e in questo momento pensa a tutt'altro egli sentiva bene che avrebbe dovuto ragionevolmente lasciare passare ancora qualche tempo per fare la sua domanda ma la gelosia e l'amor proprio non glielo concedevano non avrebbe avuto più pace finché il ricordo dell'altro rimaneva nel cuore di Agatha e da un altro canto voleva fingere di ignorare affatto che ella era stata promessa sposa di Mario Corvaia se ella lo rifiutava Giulia Curzi sentiva che si sarebbe messo subito ad odiarla in tutte le maniere in cui l'odio può esplicarsi non pensiero poi la viliva più ad ogni altro forse un giorno egli mi vedrà con lei innamorato di lei e mi guarderà con occhio di commiserazione sì quella donna mi amava e io non l'ho voluta l'ho piantata ora ella ha trovato il gonzo che se l'è presa eccolo lì Herminia Corvaia fu molto sorpresa della visita dell'ingegnere a Curzi egli pallido e nervoso si perdette sul principio in comuni superficialità poi tutto a un tratto impulsivamente uscì a dire senta signora lo scopo della mia visita ma si arrestò d'improvviso io desidererei che ella mi desse stava per dire delle spiegazioni Rossi si confuse e poi rimettendosi ecco ella sa che la sua signora madre abita giù in casa mia io ho avuto la fortuna ad apprezzare le doti veramente lettissime tanto della signora quanto della signorina a sua sorella adesso starà bene mi auguro l'ho veduta ieri mi sembra quando è venuta lei con le bambine sì giusto ieri mi è parso che oh sì adesso in salute almeno sta bene conclusa imbarazzata ermina corvaia tentando un sorriso e abbassò gli occhi giulia cursi notò quella almeno e si agitò sulla poltrona non trovando adesso come riattaccare il discorso sì ho saputo che è stata male anzi già ho chiesto a lei una volta notizie si ricorda sì ma ora per fortuna è passato e io mi trovavo presente quando è ritornata dalla campagna di suo suocero è vero sì povera signorina era così sofferente infatti ha molto sofferto affermò tentennando il capo ermina corvaia giulia cursi si agitò un'altra volta sulla poltrone ora è passato però ripete e quando una malattia si può raccontare ci è dispiaciuto di non essere potuti scendere giù in questa occasione ma mia madre poverina e la saprà che oh sì purtroppo so povera signora fece erminia con aria di profonda commiserazione da sei anni esclamò giulio e preso da quel discorso la conversazione andò per un tratto più spedita e gli non si accorse che parlando della madre dello squallore e della malinconia che regnavano nella sua casa da che ella sarà malata e della solitudine senza cure in cui si sciupava la sua giovinezza si preparava man mano quasi inconsciamente il terreno per venire allo scopo della sua visita e a un tratto la spiegazione gli riuscì spontanea molto più facile che non se l'aspettasse erminia corvaia resta un momento imbarazzata pur sorridendo di compiacenza all'annunzio si strinse le mani e si raccolse schivando di guardarlo come per ponderare una risposta giudiziosa quell'istante di silenzio fu penosissimo per giulio accursi e gli già si aspettava che la per convenienza gli avrebbe parlato di mario corvaia e dello stato d'animo della sorella ma quasi quasi adesso avrebbe voluto farne parola a lui per primo pur di uscire al più presto da quella pena tanto chi avrebbe potuto dirgli da essere accorto che ella era contenta della sua domanda il passo più difficile era per il momento superato egli è vero avrebbe potuto simulare sorpresa nell'apprendere che Agatha era stata fino a pochi mesi addietro promessa a sposa ad un altro ma simulò invece indifferenza e rispose alla sorella sì difatti ho saputo franciullaggi ne sa si affrettò ad aggiungere Erminia era già finito da un pezzo tuttavia capirà lasciano sempre un certo come dire turbamento nel cuore di una ragazza poi col tempo oh ma già ma a quest'ora ne sono sicurissima Agatha si sarà convinta che è una sciocchezza a cui non val proprio la pena di pensare io per me glielo predicavo sempre era poi più che altro non si figuri una corrispondenza da lontano mio cognato è sempre stato fuori prima a Roma poi all'estero Giulio Accursi ascoltava pallidissimo con un sorriso gelato sulle labbra le parole di Erminia non sarà vorrei sperare un impedimento questa sconclusione balbettò alla fine almeno da parte mia Erminia si tolse felicissima l'incarico di annunziare alla madre la domanda di matrimonio la madre poi ne avrebbe parlato ad Agatha fra giorni la risposta un po' di pazienza così convennero o uscito sulla via Giulio Accursi erano sprito da una sorda stizza e avvilito da un profondo disdegno di se stesso perché? Agatha ancora letto notava la bianchezza delle sue braccia magre tuttora dalla recente malattia e osservava attentamente le veniciuole azzurre trasparenti sotto la pelle levigata la luce del giorno penetrava nella camera attraverso le persiane verdi e su una mensoletta in un angolo moriva già il lampadino da notte dietro una ventola litofana era uscita testa dalla camera la signora Amalia e nella fronte di Agatha si spianava man mano la ruga lasciatale dal dialogo breve inatteso avuto con la madre Agatha non aveva mai badato veramente a quel Giulio Accursi di cui la madre le aveva parlato con tanta esitanza prima con tanto interesse poi costui dunque chiedeva la sua mano sapendo tutto e sua madre ed Herminian sarebbero state felici se la avesse accondisceso quelle nozze non sapevano dunque che per lei ormai un altro amore non era più possibile tutto per lei era finito fagli dir di no aveva risposto a prima giunta ma poi si era ripresa temendo non sospettasse la madre che la pensava ancora a quell'altro e gliele aveva detto nemmeno per sogno sai anzi guarda per me fa quel che vuoi se ti piace fagli pure rispondere che accetto e si era voltata dall'altra parte del letto tirandosi sulle spalle le coperte la madre però l'aveva severamente rimproverata così no non è giusto né onesto Dio non vuole un impegno per la vita pensaci e quando ci avrai ben pensato noi daremo la risposta quanto all'amore non dubitare verrà non verrà non può venire pensava Agatha e negli stesso tempo bilanciava col suo sconforto i sabi ammonimenti della madre e le considerazioni del suo stato Giulia Curzi era giovane buono ricco ella aveva già varcato da più anni il limitare della prima giovinezza e aveva inoltre da vendicare un affronto alla sua femminilità l'abbandono che le castava ancora tanto dolore ebbene domandò Agatha sulla sera alla madre che avete concluso nulla te l'ho detto ci hai pensato sì lo accetto rispose Agatha donna Amalia baciò con mossa la figlia e domani sera scese per la prima volta in casa Sarni Giulia Curzi assistevano alla presentazione Terminia Corvaia con le bambine una vecchia zia d'Agatha curva corpacciuta gialla di carnagione e rugosa con gli occhi smorti pieni sempre di lacrime e la figlia Antonia zitellona che pareva fatta di legno e che non schiudeva mai le labbra se non per terminare le frasi lasciate in sospeso dalla madre nello stento di trovare parole madre e figlia erano vestite goffamente per l'avvenimento e benché impacciate nelle loro vesti non staccavano gli occhi da Agatha il salotto era riccamente illuminato e cosparso di fiori freschi Agatha pallidissima guardava or la madre or la sorella come trassognata questi due ascoltavano attentamente le parole di Giulio Accursi che si rivolgeva a loro di preferenza assentivano frequentemente col capo e sorridevano forse senza intendere nulla di ciò che gli diceva la vecchia zia e la figliola esaminavano minutamente gli altri quattro e di tanto in tanto si scambiavano sospirando uno sguardo di intelligenza Giulio Accursi si sforzava evidentemente di non sembrare impacciato e Donnamalia e la figlia maggiore gli venivano come perintesa in aiuto egli parlò in principio di cose aliene con sovrabbondanza di parole intercalando qua e là le massime di largo criterio ma senza presunzione con l'aria un po' stanche di chi si sia data qualche volta la pena di pensare ai casi della vita quindi si mise a parlare della madre e si compiacque sotto gli occhi di Agatha nel mostrare tutto il suo affetto filiale e il dolore per la sciagura toccata alla sua vecchina poi la vedrà concluse rivolgendosi ad Agatha Agatha abbassò gli occhi sotto lo sguardo di lui e trattenne un istante il respiro la conversazione languì Giulio Accursi girò gli occhi per il salotto e gli arrestò sul pianoforte aperto e la suona spesso è vero domandò ad Agatha qualche volta rispose questa esitante con un fil di voce via suona un po' qualche cosa si affrettò ad aggiungere Erminia a cui tosto fecero ecco la vecchia zia e la figliuola donna Amalia guardò la figlia che si rifiutava un po' duramente accesa il quanto dalla vergogna mi faccia sentire se non le dispiace troppo insistì dolcemente Giulio non so proprio suonare sentirà fecella alzandosi e guardandolo freddamente egli non smise un istante di studiarla mentre la suonava e ammirò i capelli castanei finissimi pettinati con tanta grazia la nuca alle spalle la sottilissima vita ecco lei così bella così adorabile era stata rifiutata da quell'altro perché dunque notò che la suonava un vecchio pezzo di musica anche Mario Corvaia forse lo aveva udito da quelle mani chissà poteva anche essere un suo regalo che vibrava in quel momento nel cuore di lei quando Agata finì di suonare Giulia Corse era ancora turbato dai suoi pensieri pure fece dei complimenti alla suonatrice e parlò di musica se io avessi saputo suonare non avrei cercato più nulla nella vita e la musica si potuto dimenticare arrossì a quest'ultime parole e sovvenne improvvisamente che Agata in quegli ultimi giorni passava gran parte della giornata sonando la conversazione languì di nuovo e poco dopo egli tolse rispettosamente il comiato ma Merà si ripeteva ora Giulia Cursi uscendo dalla casa della sua promessa sposa egli l'avrebbe vinta a poco a poco cingendole l'anima di dolce silenzioso assedio spiandole negli occhi e sulle labbra ogni desiderio ogni senno di desiderio avrebbe vinta con la sua sommissione senza mai urtare i sentimenti di lei né tentar mai apertamente di penetrarle il cuore così con l'alito soltanto della sua passione il cui ardore man mano avrebbe ridato e aveva fiducia il rogio colorito e la prima gaiezza e quel freddo e pallido volto l'avrebbe vinta bisognava innanzitutto aver pazienza il tempo aiutato nutrito dalle sue cure amorose doveva un po' per volta cancellare da quel cuore l'immagine di un altro uomo pensava così ormai tenendo sempre presente a sé l'immagine di Agatha del contegno gelido quasi per soffocare ogni impulso violento della gelosia per quanto internamente ne soffrisse pure amava meglio che la fosse così rigida e chiusa con lui fin dalla sera prima al cospetto di lei sarà sentito cadere dall'animo l'avvidimento provato nel far la domanda alla sorella indovinò all'accoglienza di Agatha come la si fosse indotta ad accettare e la via che conveniva a lui di seguire per vincerla al più presto ma quanto più i pensieri guidati dal compito che gli sarà imposto abbondavano in amorevolezza tanto più il suo cuore si struggeva dentro quasi stretto in una morsa di ferro dall'odio impotente per Mario Corvaia costui non era più forse il signore della rigida fortezza cui egli ora cingeva d'assedio amoroso ma l'aveva lasciata pur lui così chiusa e impenetrabile Giulia Cursi inviava ad Agatha fiori ogni mattina prima che ella si levasse dal letto ora un grande involto di rose sciolte in un fazzoletto bianco di seta ora un canestro di gardenie ora un gran cappello di paglia da contadini con fiori di campo e cominciò a presentarle i primi regali anelli bracciali spille ella li accettava confusa senza espressioni sincere né di gradimento né d'ammirazione li toglieva con mano tremante dalle ricche scatole e lasciava che la madre si profondesse in meraviglie Agatha gli dava ancora del lei così no non voglio essere più ringraziato dispinse egli a dirle finalmente ebbene ti ringrazio fece ella chinando leggermente la testa e sorridendo appena così va bene concluse freddamente Giulio quella concessione forzata non gli era riuscita per nulla gradevole intanto egli attendeva lacrimente all'arredo della casa su al secondo piano Agatha e Donna Amalia uscivano qualche volta con lui a far compere ed egli sceglieva tutto ciò su cui gli occhi di lei si fermavano un po' ad ammirare Agatha si ricò con la madre a far visita all'inferma e la casa che tra breve l'avrebbe accolta sposa era gran trambusto operai vi lavoravano solo nella stanza della malata regnava il solito silenzio Giulio assisteva alla visita e non staccava gli occhi dalla madre quasi temendo che non accogliesse ella freddamente la futura nuora in quegli ultimi giorni egli aveva notato nella madre un serio cambiamento ella per solito così rassegnata al suo male ora si lamentava a lungo si ragnava del rumore che facevano gli operai era impazzente curiosa di sapere quel che avveniva nelle altre stanze Giulio Giulio chiamava con insistenza e se per caso egli tardava un po' o mostrava lontanamente dispetto per l'oziosità delle sue domande si metteva a piangere a invocar la morte per non essere più di peso a nessuno egli si chinava su di lei la carezzava si mostrava afflitto fino alla disperazione dimmi un po' dimmi un po' usciva ella a dire con voce irritata vada già me ne sono accorta lo vedo ella ti rende triste è vero? sì tu sei sempre triste per causa sua non mi sfugge nulla no mamma che pensi? e allora è per causa mia morte maledetta perché non vieni? che sto a far qui? accolse però Agata con straordinaria tenerezza volle che la sedesse accanto a lei e la guardò a lungo approvando quel capo poi si volse al figlio Giulio Giulio tagliela tu io non posso Giulio tolse dall'astuccio una splendida collana di perle quella stessa che gli richiamava alla memoria la figura indecisa del padre e la porse ad Agata annodagliela al collo aggiunse l'inferma e tornò a guardarla approvando col capo poi quando Agata e la madre furono andate via e Giulio ritornò da lei vedi ho fatto bene gli domandò come una bambina sì mamma certo oh così purché tu sia sempre contento di me concluse facendo il greppo e si mise a piangere silenziosamente la vigilia delle nozze Giulio a cursi non pote chiudere occhio durante la notte occupato dai preparativi della cerimonia dall'allestimento della casa degli abiti delle carte necessarie in quegli ultimi giorni aveva vissuto molto frettolosamente sordo affatto alle contrarie voci della sua passione aveva voluto frettare quel giorno contro l'angustia del tempo con l'ostinatezza di un ubriaco ecco e già gli era riuscito era tutto pronto domani la catena gli avevano detto scherzando gli amici tra lui e Agata si era stabilita come un'intesa di compatimento questa almeno era l'illusione che gli sarà fatta durante i tre mesi del suo fidanzamento certo Agata non gli dimostrava amore né gli quasi ne pretendeva pareva pago della stima affettuosa e della gratitudine che ella in cor suo doveva professargli per il silenzio da lui mantenuto sul passato di lei in quelle sere la madre pacifica e serena per lasciar loro libertà di parlarsi leggeva presso il lume un grosso e vecchio libro sacro la via del cielo e loro due seduti un po' in ombra lontani del lume si ingegnavano prudentemente a schivare ogni confidenza ogni familiarità una sera soltanto nel penoso imbarazzo di un prolungato silenzio egli si era lasciato indurre a domandarle perché fosse sempre così triste no perché triste aveva risposto Agata con un fil di voce tormentando una trina dell'abito egli l'amava così avrebbe voluto sempre amarla così cominciò intanto ad albeggiare la cerimonia religiosa doveva aver luogo alle otto della mattina e civile alle nove poi gli sposi e i parenti si sarebbero recati nella campagna dove Giulio era nato a pochi chilometri dalla città qui vi era apparecchiato il pranzo delle nozze dopo il quale i parenti se ne sarebbero tornati in città lasciando soli nella ricca cascina i due sposi pochissimi invitati i parenti e i più intimi amici soltanto così Agata aveva voluto Giulio finì da abbigliarsi e si recò a baciare la madre ancora a letto come sei bello lasciati vedere già vuoi andar via? sì sì va pure ti benedico e sii felice figliuolo mio e lo accompagnò con gli occhi pieni di lacrime fino all'uscio della camera mandami sui confetti non ti scordare giù fu ricevuto da Cesare Corvaia il marito d'Erminia un colosso bruno barbuto dai grandi occhi neri un po' goffo nell'abito nuovo insolito la cerimonia qua la mano cognato noi non ci conosciamo io sono Cesare Corvaia Giulio lo guardò stordito tendendogli macchinalmente la mano il fratello di Mario stava per aggiungere e sorrise freddamente una sorpresa è vero la combinazione già vi credevo sposati eh sì la moglie mi scrisse sposeranno prestissimo bravi dico che fretta invece arrivo iarsera sai mi dice Erminia domani Agatha sposa ed eccomi qua Agatha non sa ancora nulla chi sia venuto Erminia è di là che le aiuta a vestirsi e io me ne sono entrato moggio moggio qui vedrete che sorpresa ah le mie congratulazioni intanto Giulio si fece di brazia grazie rispose tendendo di nuovo la mano alla stretta del colosso e consultò l'orologio simulando gran fretta ma bisogna che si spiccino già le otto eh sì le donne zitto vengono rispose Cesare Corvaia nascondendosi dietro l'uscio che si apriva entrò con Erminia Agatha pallidissima già acconciata per la cerimonia anche ella forse non aveva chiuso occhio durante la notte vuol dire sposa la salutò Giulio con fare allegro come per ravvivarla e la gli sorrise mestamente siamo in ritardo già la mamma si veste una risata sonora scoppiò dietro l'uscio Agatha trasalì e si vide innanzi Cesare Corvaia tu tu qui come mai che paura oh guarda e si nascondeva come mai gli aveva attese tutte e due le mani accesa in volto dalla sorpresa e lo squadrava ridendo dio come sei brutto conciato così scusa ti prego Agatha è già tardi osservò Giulio con un sorriso forzato mio marito esclamò Agatha con una sborfietta come se tenesse a mostrarsi allegra davanti a Cesare Corvaia Giulio non l'aveva mai veduta così Giulio ti prego abbottonami questo guanto giunti gli invitati si recarono tutti a piedi ordinatamente alla prossima chiesa Giulio si ingilocchiò accanto ad Agatha su un cuscino a piede dell'altare e all'ingiunzione del prete prese la mano gelata tremante di Agatha la guardò gli parve che la trattenesse a stento le lacrime e le strisse forte la mano il prete intanto leggeva di fretta con voce nasale in un libricciolo e faceva dei gesti con la mano sul loro capo poi pronunziò la formula di rito si disse Giulio con voce ferma e attese con ansia che Agatha rispondesse notò in lei un sussulto subito frenato quando egli le mise al dito l'anello di fede si alzarono la cerimonia religiosa era finita adesso all'altra dissegli piano alla sposa in villa durante il pranzo regnò con tal brio più voluto che spontaneo né Agatha né Giulio per quanto si sforzassero riuscirono a prendere cibo si fessero molti brindisi e molti auguri Giulio si sentiva sfinito disfatto dall'emozione della giornata avrebbe voluto da un canto che tutte quelle chiacchiere inconcludenti e quel rumore non si potreessero più a lungo e dall'altro nello spossamento dei nervi rifugiva dal pensare che tra breve egli ed Agatha sarebbero rimasti soli intanto il tempo fino allora bellissimo cominciò poco a poco ad annuvolarsi così che gli invitati temendo qualche improvviso rovescio d'acqua si decisero a mettersi presto in via per la città fra il trembusto decomiato Giulio si aggirava dispensando ringraziamenti e strette di mano scorse Agatha con le braccia al collo della madre e la faccia nascosta e la piangeva coraggio coraggio le diceva piano Erminia dietro la madre Giulio si volse a guardare altrove vedrete vedrete è molto più facile che non si creda gli diceva intanto qualcuno cotendogli la mano ad ogni parola egli ne ascoltava quelle parole ne vedeva che la sua mano era in quella di Cesare Corvaia infastigito dalle scosse lo guardò e ritrasse istintivamente la mano Cesare Corvaia continuò a parlare col primo vicino poi dopo tanti anni ci si ricorda adesso pare chissà che cosa ma è così la vita è così Giulio Giulio esgramò Agatha vivacemente schiudendo l'uscio e introdicendo il capo dai capelli disciolti era un accappatoio bianco che teneva in mano il pettine vieni a vedere che bella capretta dopo la prima notte d'acqua e di vento il tempo si era fatto limpidissimo quasi primaverile e durava così da otto giorni Giulio abbandonato sulla ringhiera del balcone guardava con le ciglia grottate la campagna silenziosa sotto il tiepido sole alla voce di Agatha si volse e come si sospettasse ormai da lei quella vivacità si mosse con indolenza dal balcone e seguì Agatha in un'altra stanza guarda guarda la vedi disse questa dalla finestra additando sul viale una leggiadra capretta che stuzzicava allo scherzo un vecchio e paziente cane di guardia sdraiato beatamente al sole la vedi ma guarda guarda e Agatha rideva ad ogni mossa stramba di quella bestuola lasciata alla libertà dei campi povero turco disse egli invece in un sorriso melanconico compiangendo il vecchio cane disturbato quando ella finì di pettinarsi e di vestirsi uscirono a braccio per la campagna che hai domandò Agatha non dici nulla senti che pace rispose egli Agatha andò in silenzio contemplando intensamente la campagna il suo volto alla fresca carezza dell'aria aperta si era vivamente colorito e le due labbra accese parevano in quel volto rifiorite e l'andando si stringeva sempre più al suo compagno fin quasi ad appoggiare la testa al braccio che la leggeva di tanto in tanto costrinseva Giulio a fermarsi pareva presa in quel giorno l'ammirazione di meraviglia per ogni cosa della terra e della vita guarda guarda questi fiorellini di febbraio come sono timidi egli allora si chinava per raccoglierli no che fai poverini non nascono per noi sono per sé un giorno così felici giunsero al limite della campagna segnato da un muricciolo e coronato e difeso da un rovo guarda di là si può saltare saltiamo fece Agatha no Agatha tu non puoi con la veste non puoi torniamo indietro piuttosto non posso ti fa vedere e in così dire Agatha liberandosi dalle mani di Giulio che tentava di trattenerla si inerpicò sul muricciolo le sue vesti di sopra nel volgersi si impigliarono nel rovo e fu per cadere Giulio accorse e con le braccia levate la sostenne e la rideva di gran cuore della pessima riuscita e con le braccia puntellate sulle spalle di Giulio chinandosi di più cercava di stropicciare la fronte sul capo di lui aspetta Agatha come scende adesso mi reggerò io tu liberami dal rovo poi salto che pazia te l'avevo detto e la si rimise a ridere più forte Giulio non trovava modo di districare la veste alla fine dispettito di avere un leggero strappo oh brutto fece Agatha saltando e si guardò la veste per trovare lo strappo scusami che ho fatto non avrei potuto altrimenti disse Giulio arrossendo vogliamo tornare Agatha non rise più andarono in silenzio e ritornarono così alla cascina alla sera Giulio propose di ritornare in città il domani come vogliamo andare via così presto è così bello la campagna la libertà ti sei già annoiato no con te annoiato ma capirai la mamma poverina ah già sospirò Agatha hai ragione domani partiremo e il domani si levò all'alba sgusciando pian piano dal letto mentre egli dormiva ancora pallido e stanco si vestì alla meglio senza far rumore e lasciò la camera tiepida in cui ardeva ancora la lampada e dai sirifili d'umido albore penetravano attraverso le fessure delle imposte gli celletti cantavano di già per la campagna ed ella come rispondendo ad un loro invito uscì a volte in uno solletto rabbrividendo alla pura brezza dell'aurora errò per la campagna bagnata di rugiada assistè alla levata del sole e sacrificando a un pensiero amoroso la carità per i fiori ne raccolse quanti più potè rientrò nella cascina e spalancando l'uscio della tiepida camera vi ruppe fragrante carica di fiori giulio si destò di soprassalto ed ella gisettò in faccia tra le mani sul petto tutti i fiori raccolti no no che fai sono tutti bagnati è la rugiada ti porto la primavera a letto testati povero mortale egli la tirò a sé in un impeto di tenerezza e se restunse forte a lungo respirando sul collo e sulle vesti di lei l'aura mattinale della campagna perché non mai svegliato prima saremmo usciti insieme per tempo ci porteremo questi fiori in città per memoria sì fra mezz'ora saranno morti esclamò lei raccogliendoli e tacquero entrambi egli quasi afflitto della prossima morte di quei fiori ella della prossima partenza per la città vieni qui sedi così ora dammi le mani devi dirmi che hai nulla Agata che vuoi che abbia non è vero me ne accorgo tu non sei contento contentissimo se io ho cominciato ad amarti quando tu ancora non mi amavi ma io allora non ti conoscevo sì sì è vero ma di la verità non ti eri mai accorta mai te lo giuro capisco tu allora ti prego Giulio non parlarmi di quel tempo perché oh bella credi forse che io sia geloso nemmeno per sogno se tu ora sei mia interamente mia e perché dunque uno scoppio di lacrime interruppe la domanda di Agata Giulio si affrettò a rispondere è la tua fantasia ti ostini a credere che io non sia contento mentre non si può mica ridere in tutti i momenti e tu nel tuo stato Agata si spiegava l'improvvisa malinconia in cui Giulio pareva caduto come effetto della gelosia per il suo passato amore io mi sono mostrata a lui così fredda da principio pensava forse egli credo che io senta per lui soltanto della stima affettuosa o della gratitudine per il suo silenzio come prima ma ora e si sforzava di manifestargli in tutti i modi il suo amore specialmente con l'allegria per cancellare la prima impressione di freddezza che egli aveva dovuto ricevere dal suo contegno d'una volta ma le diceva intanto in cuor suo la memoria di quell'altro che veniva anche ora secondo lei a turbarle la pace ma che Giulio non credesse a quelle manifestazioni d'amore talvolta gli era parso fin anche che egli si indispettisse internamente di quella sua allegria come se non avesse voluto vederla così affettuosa e paga con quanta freddezza aveva egli pronunciato le parole se tu ora sei mia interamente mia ma che ha dunque mai si domandava smaniando la sera mentre egli era fuori di casa ed ella nella camera dell'inferma abbandonata sempre con gli occhi chiusi sulla poltrona attendeva sola e triste a preparare il corredino per il nascituro erano già corsi cinque mesi del matrimonio ed ella era incinta da due giulio in verità non faceva ancora nulla che meritasse rimprovero ma pure agata trovava bene il cor suo da rimproverarlo per tutto ciò che non faceva sentiva bene che egli non voleva venire meno a nessuna promessa d'amore ma era freddo adempimento e nient'altro sì sì come se gli fosse stato defraudato nell'attesa chissà e tanto in tanto l'inferma mandava un sospiro come un lamento abbandonando il capo sull'altra spalla agata accanto al lume rospendendo l'ago la spiava un po' nella penombra mamma vuol nulla nulla altre volte levando gli occhi incontrava lo sguardo freddo della suocera fermo su di lei cuci ancora sì mamma deve essere tardi giulio non torna non lasci star fuori che farebbe qui con noi beh che io vorrei essere messa a letto chiamo la serva no no nessuno sa prendermi come lui siete sempre in guerra voi due adesso egli mi fa aspettare tanto ogni sera prima era così puntuale io l'aspetto come lei mamma noi non siamo in collera cominciavano già i primi lievi disappunti di giulio seguirono le scuse e le dispute per provare a lei di non aver mancato e non mancava di fatti apertamente come agata avrebbe preferito così alla fine egli uccise per sempre sulle labbra di lei gli ultimi rari sorrisi e la tenera allegria quasi attirato per un momento dalla mestizia sopravvenuta ad agata giulio si rinchiuse come un tempo in casa e si rimise a prodigare le antiche affettuose premure tu già rimpiangi d'essere mia no giulio io soffro per te e a poco a poco quella diffidente da prima riscaldata dalle carezze di lui ridivenne allegra ma non durò molto giulio ricadde nelle smanie poi nel tedio il giardinetto giù a piedi della casa lasciato in abbandono non aveva più fiori anche il padrone adesso non era più quello di una volta agata per non affliggere sua madre si recava in vettura dalla sorella per consiglio o per bisogno di conforto tutti gli uomini sono così le diceva Arminia fuoco prima delle nozze cenere dopo ma agata non se ne persuadeva no no ci deve essere sotto qualche cosa sarà il mio destino amata quando non amo disamata amando è già la seconda prova ti disaiuti troppo passerà vedi me già mi sono abituata tu sei felice ospirava agata io felice non ho mai con me mio marito giusto per questo ah si ti fa dunque bello vederselo sempre in casa triste ed annoiato senza sapere perché tu non puoi capire quel che si soffre tu ti sei adattata a vivere in pace aspettando il tuo per mesi interi vedi alle tue piccine non ti curi d'altro quando egli ritorna è una settimana di gioia il vostro amore non ha mai tempo di stancarsi ma tu credi che giulio non ti ami io non so non so intanto mi vedi e agata accennava con desolazione il suo stato alla sorella in uno di quei giorni a fin di tavola giulio mentre leggeva il solito giornale uscì improvvisamente in una strana fragorosa risata che ti avviene fece agata guarda guarda lì esclamò egli continuando a ridere e mettendo sotto gli occhi di lei il giornale aperto che cosa qui leggi guarda la firma agata guardò e divenne pallidissima giulio non smetteva di ridere era una poesia di mario corvaia intitolata l'abbandono leggi non vedi l'ha fatta stampare proprio qui in questo giornale perché tu la leggessi il birichino è così afflitto poveretto leggi l'arte l'ha frustrato l'ideale se n'è andato e tu sei tornata al suo cuore egli ti ama senti come dice se tu potessi intendere comardo ebbene e tu che fai intendi tu povera agata agata sarà lasciato cadere di mano il giornale e guardava giulio stupita egli allora si inchinò su di lei l'abbracciò e strinse forte il capo contro il suo petto baciandola più e più volte sui capelli giulio per carità ah scusa non pensavo più t'ho fatto male e si inginocchiò davanti e prese le mani e continuò a parlarle carezzevolmente guardandola negli occhi ci ho gusto sai per quello sciocco ora se ne pente hai visto aver lasciato a te così bella così buona agata sorrise amestamente un po' confusa bella anche adesso giulio si alzò dispiaciuto di quell'interruzione non ti ho fatto male davvero l'ombra si stendeva improvvisamente sulla città e la pioggia pareva imminente con la sera e alla presentiva ritraendo sotto i grandi alberi tormenti il cavallo della vettura che conduceva Agata lungo il viale al sobborgo marino dove abitava Erminia Agata era lì per dire al cocchiere di tornare indietro ma arrivava quella sera dall'America Cesare Corvaia e lei e Giulio si erano dati appuntamento in casa d'Erminia dopo la scena del giornale un altro cambiamento era avvenuto in Giulio ora egli non troncava più con un'esclamazione di noia i rimproveri affettuosi di lei pareva anzi che li gradisse e sorrideva loro in risposta con un'aria di superiorità e di compatimento va bene sta bene sarai contenta stasera sarò in casa dieci minuti prima del solito va bene così si compiaceva nel sentirsi amato da lei e nel sapere che ella soffriva per lui vuol pigliarsi una rivincita pensava Agatha come se io allora avesse voluto farlo soffrire se non lo conoscevo teneva Giulio inoltre a dimostrarsi paziente nel subire nel prestare orecchio ai rimprovidi come se egli avesse proprio diritto d'agire come agiva ed ella dovesse per giunta ringraziarlo di quella sua tolleranza ostentatamente benevola esigeva poi da lei più cura nell'abbigliamento non voleva vederla per casa così trasandata tutte ad un modo le nostre donne appena pigliano marito non si dann più cura della loro persona come se non ne valesse più la pena il povero marito non deve aver più occhi deve sottostare alla catena bella o brutta che sia ed Agatha sarà messa penosamente ad abbigliarsi con più cura per contentarlo avvilita innanzi allo specchio del suo volto languido e del corpo sformato la vettura si fermò innanzi alla casa d'Erminia e Agatha ne discese piano pesantemente quando pervenne in cima alla scala non si reggeva quasi più in piedi ansava con gli occhi socchiusi tirò il laccio del campanello e attese a lungo con la mano cerea sulla porta e la fronte appoggiata sulla mano non veniva dunque nessuno ad aprire finalmente la porta si aprì chi è? domandò una voce che fece trasalire Agatha Mario Corvaia sporse un po' il capo a guardare Agatha esclamò ritraendosi come impaurito e la rimase sulla soglia con le mani sulla porta la saletta era al buio egli qui? come mai qui? dopo un momento di indecisione Agatha entrò nessun lume acceso nelle stanze in fondo nell'ultima i vetri del balcone ritraevan dal mare un cinereo barlume Mario la seguì fino a quella stanza Erminia domandò illa ansiosamente tenendosi alla tavola in mezzo apparecchiata non c'è rispose Mario e subito ad un movimento di Agatha aggiunse no no tu rimani vado io sedi Erminia è allo scalo con le bambine il vapore è già in porto Agatha si lasciò cadere su una seggiola della mensa e dunque non va via pensava respirando affannosamente il silenzio sopravvenuto e sentiva nel buio lo sguardo di lui avvilito e sorpreso di averla ritrovata in quello stato egli non sapeva decidersi né ad andare né a parlare si era nascosta la faccia con le mani entrambi forse si ridestava tumultuante nella commozione del momento il ricordo d'altri tempi sudiva il crociard del mare vicino e l'ombra si faceva nella stanza man mano più densa Agatha un tratto salzò risolutamente vado ripete Mario togliendosi le mani dal volto e dopo una breve pausa aggiunse quasi balbettando perdonami Agatha del male che t'ho fatto nessun male dissella assordamente Mario si ritrovò fuori della casa senza saper come ne fosse uscito e si diresse macchinalmente verso lo scalo a mezza via incontrò il fratello con le due bambine in braccio Termina da un lato e la serva dall'altro eccolo qui esclamò Cesare vedendolo dammi un bacio non posso abbracciarti come va sei dimagrato sai vado in campagna per babbo per rifarmi un po' parto domattina rispose come stordito Mario e poi rivolgendosi ad Erminia aggiunse Agatha è da te è venuta a trovarti Agatha domandò ansiosamente Erminia l'hai veduta? si t'aspetta povera Agatha fece Cesare irriconoscibile si lavò Mario quasi tra sé eh sfido porta con sé riprese Cesare e aggiunse ridendo e scotendo le bambine io invece ne porto tre arrivati in casa ritrovarono Giulio Accursi venito allora e Agatha nella stessa positura in cui Mario l'aveva lasciata la stanza era ancora al buio e viva ridò Giulio con un fare insolito rivolgendosi a Erminia e accendendo un fiammifero si accoglie così un marito che arriva dall'America accendi tutti i lumi vogliamo vedersi in faccia Cesare lo baciò e gli presentò il fratello tanto piacere esclamò Giulio con grande effusione stringendo la mano di Mario già lo conoscevo così di vista oh sì viene da Roma è vero beato lei che può starsene lassù liberamente l'alma Roma e le belle donnine no aggiunse piano strizzando un occhio Mario lo squadrò pallidissimo e scotendo il capo rispose sì l'alma Roma un gran deserto come mai che dice un gran deserto per me ah per lei forse vorrei trovarmi io al suo posto senza moglie si intende la moglie è un affarserio quando si è giovani come noi è vero Cesare gli brillavano gli occhi e la sua voce aveva delle vibrazioni come di chi parla nell'acuto della febbre Agatha lo guardava come se temesse di momento in momento qualche brutta escandecenza tu mi guardi si rivolse a lei Giulio improvvisamente ridendo ma è la verità cara è la verità e nel guardare la moglie un pensiero soltanto quasi inverosimile gli torbò ad un tratto la trista gioia essere odiato da Mario Corvaia quanto lui lo aveva odiato una volta e lo stato di lei non gli lasciava aver vittoria completa se che Agatha ormai non poteva forse ispirare più a colui alcun tormento di invidiato amore grazie a tutti Grazie a tutti